coronavirus in basilicata due nuovi contagi 54 le persone guarite come ridurre i rischi per le persone fragili e gli anziani ne parliamo con il direttore dell'unità operativa complessa di geriatria dell'ospedale madonna delle grazie di matera il presidente della provincia di matera chiede un piano socio economico contro la crisi domani in diretta su trm network la santa messa dalla cattedrale di acerenza un caro saluto ai telespettatori del telegiornale di trm e tutti i principali fatti di oggi legati agli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in basilicata subito dopo una breve pausa restate con noi i numeri dell'emergenza coronavirus in basilicata due i nuovi contagi sono 54 i guariti due nuovi casi positivi in basilicata su 346 test per l'infezione da covid 19 effettuati si tratta di una persona di pisticci ricoverata all'ospedale san carlo di potenza e una di san giorgio lucano con quest'ultimo aggiornamento i contagi attualmente confermati in tutta la basilicata sono 262 5 le guarigioni nelle ultime ore mentre un uomo di avigliano è deceduto in totale sono 54 le persone guarite 23 le vittime al momento i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 68 intanto continuano di screening nei centri di riabilitazione nelle case di riposo mentre le aziende sanitarie locali lucane stanno effettuando a potenza tamponi a tappeto al personale sanitario interno del 118 nel materano screening per la popolazione vulnerabile il sindaco di matera raffello de ruggeri nell'annunciare che non si registrano nuovi contagi e che otto persone sono guarite negli ultimi dieci giorni ha evidenziato che la cosiddetta fase 2 non può essere avviata senza che siano state prese le misure necessarie per evitare una nuova impennata dei contagi per questo motivo con una lettera indirizzata al direttore generale dell'asma gaetano annese il primo cittadino ha chiesto di estendere le attività di prevenzione già previste attraverso l'esecuzione di tamponi alle categorie più esposte al contagio oltre agli operatori sanitari alle forze dell'ordine ai farmacisti sarebbe indispensabile effettuare screening anche al personale addetto alle vendite nei supermercati alla polizia locale ai volontari impegnati sul territorio nelle attività di supporto alla popolazione al personale comunale addetto ai servizi essenziali si tratta di verifiche auspicabili scrive de ruggeri in attesa della definizione di altri interventi su campioni di popolazione più numerosi anziani e coronavirus come ridurre i rischi e come tutelarli ne abbiamo parlato nell'ospedale di matera con il direttore dell'unità operativa complessa di geriatria il dottor tardi sentite la fragilità già presente in momenti di stress basta soltanto accendere la televisione al mattino e tenerla accesa fino a sera perché è l'unica forma di compagnia per ricevere i messaggi assolutamente negativi che portano specialmente gli anziani che si sentono appunto assolutamente dipendenti da chi gli sta intorno chiaramente più esposti a queste situazioni in tutto questo si aggiunge la questione della chiaramente dell'isolamento sociale per cui questi anziani non possono ricevere visite non difficilmente ottengono le cose di cui hanno bisogno quotidianamente grazie a dio in questo volontari e associazioni si sono prodigate per farlo con i limiti legati a tutta questa vicenda ma questo ovviamente ha portato molti anziani a peggiorare rapidamente per cui stiamo avendo adesso un aumento dei ricoveri dei pazienti anziani che hanno queste problematiche e che si stanno nuovamente rivolgendo all'ospedale per essere ricoverati e per essere accuditi Quando è necessario avvicinarsi agli anziani? Quali sono i suoi consigli? È importante ridurre al massimo il contatto diretto e soprattutto evitare che ci possano essere aerosolizzazioni di saliva e di altri secreti per cui è indispensabile l'utilizzo di una mascherina che protegga soprattutto l'anziano dalla esposizione a queste forme e ridurre al limite anche le possibilità di accesso in casa unitando ad una sola persona che prima di venire a contatto con il paziente anziano deve seguire le norme igieniche riportate dappertutto e ovviamente l'altra cosa importante è che le terapie vengano somministrate con continuità per evitare che le patologie croniche possano riaccendersi È possibile e necessario sostenere psicologicamente gli anziani in questo momento? Sarebbe la cosa più importante ed è la cosa che ci pesa di più perché noi stessi quando siamo costretti ad isolare un paziente e non poter comunicare con lui oppure farlo in modo molto rarefatto e soprattutto utilizzando tutti i DPI ovviamente viene molto modificato se ci fosse la possibilità di sostenere psicologicamente attraverso delle forme che purtroppo ora noi non possiamo fare per motivi obiettivi sarebbe molto meglio Nuova ordinanza del governatore Lucano Bardi domani attività commerciali chiuse Domenica 19 aprile in Basilicata chiuse le attività commerciali ad esclusione delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle farafarmacie e quanto prevede l'ordinanza del presidente della regione Basilicata numero 19 è pubblicata il 17 aprile 2020 sul bollettino ufficiale della regione l'ordinanza prevede in particolare anche l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio in tutti gli altri giorni ed è consentito esclusivamente specificato con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono con consegne a domicilio del cliente fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale all'atto della consegna e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari I poliproduttivi lucani si preparano alla ripartenza ma in sicurezza Un passo in avanti nella vertenza ventennale per dare continuità e programmare il futuro così Fim Cisle e Wilm Will sui 2,5 milioni di euro erogati dalla regione basilicata per risanare la gestione delle aree industriali della provincia di Potenza indispensabili dopo anni di scelte controverse secondo i sindacati con ricadute dirette sui salari dei lavoratori della giuzio ambiente che si occupano dei servizi la task force lucana sull'impatto economico del covid-19 voluta dall'assessore alle attività produttive Franco Cupparo è già al lavoro sull'obiettivo avallato anche dalle sigle creare un'unica agenzia regionale che garantisca le attività industriali soprattutto interlocutrice vera per gli imprenditori che vogliono investire in Basilicata non possiamo più consentire di andare avanti con contributi straordinari è necessario mettere fine a questa parola e per mettere fine a questa parola bisogna fare una scelta quella dell'agenzia regionale che dovrà non solo gestire le attività delle aree industriali della provincia di Potenza ma dovrà essere soggetto con cui gli imprenditori, gli imprenditori, le start-up devono collocare, interloquire per intattare gli investimenti tema centrale, la fase 2 verso la ripartenza dei poli produttivi Siderpotenza, Italtractor, TFA solo per citarne alcune, aziende del variegato mondo tra quelle già virtuose o in difficoltà prima della crisi e che riapriranno i battenti in sicurezza noi dobbiamo parlare di una fase in cui è possibile coniugare il lavoro con la sicurezza le attività produttive, medie e grandi, stanno già riprendendo è partita Italtractor già a partire dal 6 aprile due giorni fa abbiamo fatto l'accordo di Siderpotenza in questi ultimi tre giorni abbiamo chiuso anche l'accordo che è un altro importante impianto in questo caso per il settore peroriano che TFA stiamo facendo come organizzazioni sindacali in maniera unitaria come Finfium e Wilm il nostro meglio dagli spazi comuni, da queste famose mascherine molto importante per noi il rilevamento della temperatura il protocollo nazionale prevede soltanto in ingresso dei lavoratori invece noi lo stiamo stabilendo come regola in tutti gli stabilimenti anche in uscita dei lavoratori perché un lavoratore dopo 8 ore, 9 ore di lavoro deve avere la serenità di tornare a casa e non ha nessun tipo di sintomi dal punto di vista proprio della Covid ognuno deve fare la propria parte Il presidente della provincia di Matera Marreza e chiede un piano socio-economico contro la crisi I sindaci sono le sentinelle di ascolto anche del territorio e a noi ci sono riferite insieme abbiamo costruito una piattaforma di proposte per cercare di dare risposte concrete cosa chiediamo? chiediamo di valutare un sostegno a fondo perduto per andando a computare questo sostegno in base alla media degli ultimi 3 anni in riferimento ai 2 mesi in cui le attività ad oggi sono chiuse oppure nel caso in cui non ci sia uno storico pregresso valutare il mancato profitto l'80% del mancato profitto in base agli studi di settore abbiamo chiesto un sostegno per i fitti di queste attività la possibilità di bloccare completamente i mutui perché ad oggi questo ancora non è definito la possibilità di non vedersi protestare i nostri commerciali perché anche questo è il limite tutto questo deve essere fatto a burocrazia zero dopo le sanzioni per l'utilizzo del palasassi di Matera scoppia la polemica politica scoppia la polemica politica dopo le sanzioni amministrative inflitte dalla polizia per 7 persone scoperte a svolgere attività fisica nel palasassi di Matera l'amministrazione comunale fa sapere di aver chiesto spiegazioni al responsabile della DM Sport SRL che attualmente è in custodia la struttura mentre la gestione è affidata al comune l'assessore Giuseppe Trani ha sottolineato che è doveroso verificare i fatti e valutare eventuali provvedimenti Assessore, diversi gli interventi da parte dei consiglieri di opposizione su quanto è accaduto al palasassi qual è invece la posizione del comune? L'amministrazione comunale ha chiesto spiegazioni alla società che custodisce l'impianto sportivo e quindi attendiamo quelle che sono le motivazioni di questa situazione incresciosa che si è venuta a presentare La società DM Sport attualmente ha in custodia la struttura mentre la gestione è del comune dopo che il bando è andato deserto come si procederà? Era già in atto una riproposizione del bando andato deserto la questione Covid-19 chiaramente ha rallentato e ha bloccato paralizzando in parte questa azione amministrativa che verrà ripresa il primo possibile Nelle scorse ore a chiedere confermezza un intervento del sindaco sulla vicenda rispetto ai privilegiati esclusivi fruitori del palazzetto di Viale delle Nazioni Unite ed eventualmente la revoca della custodia sono stati i consiglieri comunali Toto, Paterino, Bucci, Quantezza, Fragasso e Morelli ciò che è accaduto all'interno del Palasassi ha evidenziato invece Massimiliano Amenta ex assessore allo sport sono il segno di una tracotanza e irresponsabilità che non ammette indulgenza in barba a qualsiasi norma oggi in vigore il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonio Materdomini invece ha fatto sapere di aver fatto richiesta di accesso agli atti giudicando deplorevole e potenzialmente pericoloso quanto successo in una struttura pubblica chiedendo poi al sindaco quali azioni intenda intraprendere nei confronti dei responsabili Restiamo a Matera dove prosegue l'assegnazione dei buoni spesa Prosegue il servizio di distribuzione dei buoni alle famiglie in difficoltà sono state settimane importanti non c'è controllo dell'orologio che tenga perché le istanze che pervengono in questo ufficio si susseguono e crescono anche lì giorno in giorno come le state gestendo? Ormai dal primo di aprile riceviamo richieste da parte dei cittadini per poter fruire dei buoni spesa questi buoni spesa possono essere richiesti presentando una domanda che si può ritrovare sul sito del comune di Matera e inviandola a una casella di posta elettronica dedicata Le domande si possono fare in qualsiasi momento sinora sono arrivate oltre 2200 domande che vengono poi processate in funzione di alcuni criteri di priorità Naturalmente in questo momento stiamo dando priorità alle famiglie che sono assolutamente prive di reddito e che in più hanno minori pagano un mutuo pagano un fitto e soltanto in un secondo momento prenderemo in considerazione tutte quelle domande in cui le famiglie hanno dichiarato di avere un reddito insufficiente Lavora su questo tipo di progetto che è un progetto a livello nazionale perché seguito all'ordinanza della protezione civile si è messo in atto tutto un sistema per poter andare incontro a quelle persone che sono in uno stato di necessità Naturalmente su questo progetto che è stato sostenuto dall'amministrazione dell'assessore alle politiche sociali portata avanti dalla dirigenza la dottoressa Mancino di questo servizio ha costruito un sistema affinché ci possa essere la fruizione di questi buoni pasto da tutti i cittadini che in questo momento presentano delle dichiarazioni con dei requisiti particolari Collaboriamo soprattutto rispetto alla gestione di questi buoni spesa con tre organizzazioni del terzo settore che sono la Caritas la Fondazione Antiusura e l'associazione Don Tonino Bello che ci aiutano nella gestione di tutte le persone che stanno fluendo in questo momento dei buoni spesa Stimuliamo allora una procedura della sua interezza in pillole La persona presenta la domanda la domanda arriva su una piattaforma su una casella di posta elettronica noi scarichiamo la domanda processiamo la richiesta del cittadino e andiamo a valutarla assegnandola a determinate categorie in funzione della dichiarazione fatta nel momento in cui la domanda ha esito positivo viene inserita in una piattaforma telematica in questa piattaforma telematica vengono inserite tutti i dati del cittadino che può fruire di questo beneficio e viene inserito anche l'importo del beneficio nel momento in cui la domanda è completa e il beneficio assegnato viene inviato un messaggio un sms al cittadino e contestualmente una e-mail da lui stesso indicati nei recapiti e il cittadino riceverà un messaggio un sms in cui sarà scritto che la propria domanda ha avuto esito positivo che il proprio pin associato alla sua domanda è indicato in quel messaggio e che nel più breve tempo possibile verrà raggiunto e contattato da un ente del terzo settore Pattene del Comune contemporaneamente riceve una e-mail in questa e-mail c'è un codice a barre con un buono e quello è il buono spesa assegnato a quel cittadino la cui richiesta ha avuto un esito positivo Tra i Comuni Lucani dove non si registrano casi di contagio al Covid-19 c'è il Comune di Acerenza il Sindaco con cautela pensa alla fase 2 Non registriamo nessun caso di positività al Covid-19 sul territorio di Acerenza sono presenti sul territorio due importanti strutture la Fondazione Dognocchi per la riabilitazione psicomotoria e la Casa di Riposo per gli Anziani d'Alessio in entrambi i casi l'osservazione delle regole imposte dal Ministero dal primo momento ci garantiscono l'assenza di criticità ora però è il momento di guardare alla seconda fase cioè la fase della ripartenza siamo tutti coinvolti noi amministratori sulle pubbliche amministrazioni a far ripartire la macchina garantire quella seconda fase che tutti noi auspichiamo e lo faremo insieme alle nostre comunità oltre che ai dipendenti comunali garantendo diciamo una continuità amministrativa e anche di vita sociale Restiamo ad Acerenza dove domani sarà trasmessa la Santa Messa in diretta su TRM Network Intanto manifesto la mia vicinanza di preghiera la mia vicinanza umana e di fede a tutti coloro che stanno soffrendo in questa situazione così inedita e difficile e dolorosa l'epidemia detta anche pandemia e partecipo al dolore delle famiglie alla preoccupazione delle persone all'impegno del personale sanitario i medici gli infermieri ma anche i governanti che devono prendere decisioni difficili per quanto riguarda noi sacerdoti vescovi dopo questi due mesi di celebrazione senza la partecipazione comunitaria è chiaro che dobbiamo ecco riprendere il discorso per servire religiosamente i fedeli che chiedono stanno chiedendo la partecipazione alla messa per cui sarà impegno nei prossimi tempi con le dovute precauzioni con gli accordi con le autorità civile sanitarie per cercare ecco di servire la popolazione per i sacramenti specialmente e per tutte le evenienze e le richieste l'assistenza spirituale delle persone su turismo e imprese è disponibile un prontuario realizzato da APT e Regione Basilicata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e l'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale hanno realizzato un prontuario delle misure straordinarie di sostegno alla filiera turistica regionale il documento rappresenta un tentativo di raccogliere le informazioni e le opportunità messe in campo per rispondere alla criticità del momento in altre parole vuole essere una piccola guida di riferimento per gli operatori del settore naturalmente l'impegno profuso si legge nella premessa del documento anche con l'ascolto continuo del territorio e dei bisogni delle imprese e dei lavoratori non si ferma solo al voler garantire la sopravvivenza del sistema ma si sforza ad immaginare insieme nuovi percorsi di valorizzazione e promozione del prodotto turistico e dei percorsi culturali proprio per questo oltre a un riepilogo delle misure emergenziali si porta anche una sintesi dei bandi e degli avvisi in corso con la convinzione che oltre a garantire la sopravvivenza del sistema dell'offerta è importante lavorare sul miglioramento del prodotto anche in virtù delle modifiche che saranno necessarie per venire incontro alle nuove necessità ed esigenze dei viaggiatori didattica in casa nasce così il video la danza non si ferma mai realizzato dal dipartimento coreutico dell'istituto con protagonisti gli allievi delle classi prima terza e quarta un lavoro di squadra coordinato dai professori esempio di perseveranza e stimolo per chiunque e che vuole trasferire un messaggio ben preciso anche in quarantena è possibile mantenersi in equilibrio sulle ali delle nostre passioni Ora voltiamo pagina anche il presidente del Parlamento Europeo Sassoli ha ricordato Emilio Colombo In occasione del centenario della nascita di Emilio Colombo il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha ricordato la figura dello statista italiano inviando un videomessaggio al centro studi internazionali Emilio Colombo sezione del centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo di Potenza promotore dell'evento commemorativo online nel videomessaggio Sassoli ha sottolineato il talento e lo spirito europeista di Emilio Colombo il quale credeva fermamente in un'Europa forte in grado di affermarsi nel mondo come baluardo di valori e di diritti il presidente si è soffermato in particolare sulla contemporaneità del pensiero politico di Colombo ricordando le parole pronunciate nel 2011 quando fu insignito della medaglia ad oro Jean Monnet egli affermò dice Sassoli che nella sua lunga vita aveva avuto il privilegio di credere nella capacità degli uomini di attraversare gli inverni della storia di contenere in un sodalizio civile politico fedi secolari e convinzioni religiose ma soprattutto di sconfiggere i nazionalismi in nome della solidarietà fra le nazioni questo messaggio commentano dal centro studi conferisce particolare profondità storica all'attività istituzionale e alla caratura umana di Colombo il videomessaggio del presidente Sassoli va ad aggiungersi fanno sapere gli organizzatori a una serie di contenuti pervenuti raccolti e resi fruibili sulla pagina del portale www.centenarioemiliocolombo.it testimonianze in questo weekend c'è una nuova iniziativa del ministero per i beni e le attività culturali per la valorizzazione del patrimonio italiano è dedicata al paesaggio italiano la quarta edizione di Art You Ready la campagna digitale del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che invita tutti gli italiani a condividere sui social scatti e immagini del panorama del bel paese con gli hashtag viaggio in Italia e paesaggio italiano protagonisti di questo weekend saranno giardini colline borghi montagne boschi e tramonti ma anche le prospettive che in questi giorni vediamo dalle finestre delle nostre case al flash mob partecipano gli archivi le biblioteche e i musei italiani che pubblicano sui loro profili social documenti antiche illustrazioni e quadri coi paesaggi immortalati dai grandi artisti dai virtual tour della bellezza ai flash mob fotografici ai giochi online con le opere d'arte da riconoscere e da riprodurre sono tanti gli strumenti digitali che il Mibact sta mettendo in campo in queste settimane per mantenere viva l'attenzione sul patrimonio culturale italiano domani tricarico celebra con una speciale festa di compleanno un coro a più voci il 97esimo anniversario della nascita di un illustre cittadino Rocco Scotellaro una speciale festa dunque via web su iniziativa dell'associazione Planar in collaborazione con Comune Proloco Caritas e Fondazione Matera Basilicata 2019 anche TRM Network media partner della fondazione supporterà racconterà l'iniziativa già nelle prossime ore con alcuni spazi dedicati all'appuntamento ed era l'ultima notizia grazie per averci seguito a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata